Soprattutto il primo tempo in cui abbiamo avuto diverse occasioni, in cui potevamo far gol secondo me, il secondo un po' meno, però sostanzialmente c'è stato equilibrio, è stata una gara equilibrata, quella che prevedevo all'inizio, prima della partita, è stata così, è stata combattuta contro due buone squadre, peccato non aver trovato quel guizio che ci avrebbe portato i tre punti, però rimane una bella prestazione, e andiamo avanti perché abbiamo davanti a noi un periodo importante. Trasciani non ha fatto rimpiangere Piacentini per niente, è stato bravo perché è riuscito a gestire emotivamente la munizione, cosa non facile, vi assicuro perché ho fatto il difensore centrale, quando prendi una munizione dopo 5-10 minuti è molto difficile mentalmente ed emotivamente mantenere la calma, perché hai tutta la partita davanti e perché hai gli attaccanti da marcare e marcare un attaccante presuppone comunque essere aggressivo e ci vuole la lucidità mentale per fare questo tipo di partita, quindi è stato molto bravo, ha saputo gestire un momento difficile, una munizione difficile in un momento iniziale della partita, quindi ho avuto delle risposte importanti dal ragazzo che secondo me sta facendo bene e che può essere un giocatore che il Teramo può puntare per il futuro. L'assenza di Bombaggi è comunque un giocatore importante per noi, Mimmo non ha fatto una brutta partita, però hanno caratteristiche diverse, oggi avevamo bisogno di occupare di più la linea difensiva avversaria, però per caratteristiche è stato questo il tipo di partita, dobbiamo fare un passo avanti perché abbiamo un po' perso l'identità di gioco negli ultimi 10 minuti, perché spesso e volentieri sia i mediani che gli esterni venivano a ricevere palla molto bassi perché volevano respirare aria pulita, non volevano giocare negli spazi intasati e quando costruisci l'azione in 5 e la squadra avversaria è 10 davanti all'area di rigore, numericamente attacchi in 5, quindi attacchi in 5 contro 10, quindi non riesce ad essere pungente, quindi avremmo dovuto secondo me negli ultimi 15 minuti mantenere quell'identità con i giocatori tra le linee per creare movimenti in fase offensiva e cercare di destabilizzare la loro linea. Comissario, proprio su questo e proprio per questo motivo che ad un certo punto proprio da Rigone hai detto siamo un po' troppo bassi, proprio nel momento in cui siete rimasti in superiorità numerica, hai chiesto in primis a lui di fare qualche passo avanti? Sorrido perché se hai sentito significa che urlavo forte, ho chiesto ai mediani di stare più alti, ho chiesto ai difensori centrali di non lanciare la palla, ho chiesto agli esterni di stare più alti perché tendevamo ad abbassarci per avere spazio, per avere aria senza giocatori avversari, secondo me è stato un errore, fa parte del nostro processo, questi ultimi 10 minuti possono aiutarci a migliorare e a rimanere fedeli fino alla fine al nostro gioco che se fatto nella maniera giusta è un gioco funzionale, i mediani sì devono supportare di più gli attaccanti in fase di scarico perché sono la parte centrale del nostro sistema, però avevamo davanti una squadra forte ragazzi, avevamo davanti una squadra, la loro difesa è forte, non era facile comunque, anche se avremmo mantenuto fede ai nostri principi sarebbe stato comunque difficile, oggi abbiamo giocato in una grande emergenza perché in panchina avevamo solo ragazzi under e sono contento perché i due difensori centrali che secondo me sono giocatori molto forti ma l'anno scorso sono nuovi della categoria e quindi bisogna fargli un applauso a questi ragazzi perché oggi non era facile, per Catania noi recupereremo solo i due squalificati, Piacentini e Bombaggi, per il resto credo che continueremo ad avere gente in infermeria.